ragazzi tecnici a tutti coloro che ci seguono in streaming un buongiorno e benvenuti qui alla piscina Daniela Samuele di Milano è il 20 dicembre ed è la seconda giornata per quanto riguarda la Lombardia per quanto riguarda la fase regionale della Coppa Caduti di Brema ed eccoci al girone 3 alla 1 Alberto Roncoroni, Como alla 2 Andrea Campolo sì Andre il girone 3 con Catalano che fa 24 e 77 a 9 centesimi soltanto Andrea Campolo Gis Milano con 24 e 86 è un testa a testa a distanza proprio tra Vittoria Latta e Gis Milano che potrebbe andare alla seconda vittoria maschile dopo quella di Mariucci con lo stile libero Andrea Campolo 52 e 89 davvero una gran bella prestazione per ottenere i punti della farfalla la Gis Milano Catalano 53 63 Spano 54 63 grazie a tutti subito in gara con questo girone 3 con Catalano che fa 24 e 77 a 9 centesimi soltanto Andrea Campolo Gis Milano con 24 e 86 è un testa a testa a testa a distanza proprio tra Vittoria Latta e Gis Milano che potrebbe andare alla seconda vittoria maschile dopo quella di Mariucci con lo stile libero Andrea Campolo 52 e 89 davvero una gran bella prestazione per ottenere i punti della farfalla la Gis Milano Catalano 53 63 Spano 54 63 grazie a tutti